...Italia e Fumperto Fornara, consigliere esecutivo di RCS Media Group e AD di Cairo Comunications. Cairo dov'è? Dammi la boccia! Che faccio dare? No, io preferisco la boccia, ma il resto vediamo. Vince la ventunesima tappa del Giro d'Italia, il campione italiano della prova a cronometro per il Team Bike Exchange Eico, Matteo Sovrero! Bravo! Bravissimo! È un lampo tricolore quello che illumina Verona in questa giornata. Eeeh! È una bocca qua però, eh! Accidore l'agio! Grazie a tutti.